Uno, due e tre. Rosa, muda, tu sei la vita per me. Rosa, muda, tutto il mio cuore per te. Rieccoli, ancora loro, a sorprendere San Giovanni, i cosiddetti piazzaioli capitanati da Mauro Bighellini. Questa volta i giovanotti che nulla hanno a che vedere con la loro età anagrafica si sono esibiti, dopo lunga preparazione, in un concerto per il folto pubblico presente sotto la ruota panoramica in piazza Cavour. Nessuna canzone natalizia, ma storia della musica italiana e napoletana, con uscita anche lirica per il Nessun Dorma. Siamo messi insieme sotto il comune, i soliti piazzaioli, le solite persone pensionate e abbiamo deciso di fare un concerto. Ci siamo impegnati molto, a cominciare da il nome, i ragazzi da Arnolfo, perché siamo nati sotto il comune, ci siamo impegnati molto e siamo riusciti a fare. Veramente io penso un concerto che potrebbe essere buono, buono, via, buono, buono. Il repertorio non solo Natale? No, no, il repertorio di Natale no, c'è tutta una serie di canzoni famose, sia napoletane che italiane e si spera di chi ascoltare che si diverta. Avete poi le sciarpe da tenore perché quelle ci vogliono? Le sciarpe abbiamo fatto per distinguersi un po' tutti, dice cosa ci si mette, abbiamo trovato la possibilità di farsi uscire queste sciarpe, e le ringraziamo anche i celacusite per distinguersi. Calaf, personaggio della Turandò, appunto è certo di vincere all'alba. I ragazzi di Arnolfo invece il successo lo hanno ottenuto subito, chiudendo poi con il carrozzone di Renato Zero, storia dell'umana esistenza. Che me lo fa un do di petto? Ohhhhhhh Ohhhh Grazie a tutti.